Dal 24 al 26 agosto a Fano torna la fiera di San Bartolomeo, presenti oltre 170 bancarelle aperte dalle 8.30 del mattino fino alla mezzanotte. Ma anche quest'anno, Vice Sindaco Manocchi, avete voluto dare spazio ai ragazzi con la fiera franca. Che cos'è e dove si svolge? Allora, anche quest'anno viene riproposta la fiera franca dei bambini che si terrà sotto la tensostruttura in Sassonia e è stata debitamente oggi anche rinfrescata e ripulita per l'occasione. La durata è per tutti i tre giorni della fiera di San Bartolomeo, dalle 14.30 alle 20, quindi tutti i giorni, con la possibilità per le bambine e i bambini dai 3 ai 16 anni di partecipare con lo scambio, il baratto di giochi, fumetti, anche piccole realizzazioni fatti da loro stessi e con un massimo circa di 30 postazioni, per un 3 metri circa per ogni postazione. I minori ovviamente dovranno essere accompagnati dai propri genitori o comunque da un adulto che si occuperà anche della supervisione e ovviamente quindi in questo senso è autogestita. Questo evento, questo momento che comunque è piacevole, non solo è un momento aggregativo ma proprio un momento di scambio per tanti giochi che magari i bambini stessi hanno a casa che hanno quindi il desiderio di fare questo tipo di operazione, ci ha dato lo spunto di poter immaginare, quindi ancora è da strutturare, da programmare per immaginare una fiera dedicata soltanto espressamente ai bambini, quindi per una prossima stagione immaginare davvero una giornata solo per loro dedicata a questo tipo di attività coinvolgendo anche magari associazioni ad essi riferibili per questo bellissimo momento.